Salve tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come trovare questa cenere di guerra carica del prelato dirigetevi qui in questa posizione dove sta questo castello dove stanno tutti questi figli di puttana dei guardiani dirigetevi proprio qui, si proprio qui al castello e innanzitutto cosa fa questa cenere di guerra? questa cenere di guerra conferisce così una affinità e abilità a un armamento ma quale armamento? asce e martelli grandi e colossali quindi cosa fa? sbatti l'armamento nel terreno per creare un'ondata di fiamme, quindi carica tieni anche premuto la carica e come ho detto puoi solamente usarla su asce e martelli grandi e colossali quindi prima di un momento che sto un attimo cazzeggiando un po' con questi perché ogni volta che... un momento e questi? ma andate affanculo lasciamo sta lasciamo sta ora basta cazzeggiare ragazzi ora vi spiego un attimo dove trovare questa cenere di guerra e si trova in una palla di riccio di questo scarabeo che sta trasportando questa palla di riccio ma questa volta sta su quell'albero esatto quindi usate la magia per colpire quella palla fanno scendere e poi uccidere lo scarabeo eccolo qua la carica del prelato ora andiamo un attimo alla tavola rotonda alla tavola della grazia devo un attimo usare qualche... non so... l'applico su quest'ascia del gargoyle metto fuoco... no anzi si fuoco e adesso visto che ci servono le pietre della forzatura tanto ragazzi non sottovalutate le armi che sono tutte forti sono una bestia queste armi quindi adesso io vado un attimo a comprare queste pietre da forzatura e un'altra comprate devo applicare tutte le pietre su quest'arma fino a livello massimo e adesso andiamo a cazzeggiare un po' con questo armamento e quindi mamma mia con l'automira... oddio madonna con l'automira... no 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 lasciamo stare con l'automira... no 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 senza automira... adesso vi faccio vedere un po' ma che cazzo c'ho del sangue su un mantello guardate là guardate che mostro guardate che spettacolo è e niente ragazzi quindi se questo video vi è stato utilissimo lasciate like, iscrivetevi al canale e anche alla canzoncina del Far West di quei due là sopra che dovevano morire quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao